Perquisizioni, posti di blocco, controlli, testimonianze, proseguono le indagini dei carabinieri di Manduria sull'omicidio di Martino Marangio, 50 anni, ucciso in tarda serata a Pulsano nel corso di un agguato. I colpi di pistola sono stati sparati da un'automobile che ha affiancato l'auto del 50enne. Una raffica di spari che è stata letale per l'uomo che è morto praticamente sul colpo. Quando i sanitari del 118, infatti, sono giunti sul posto, Marangio era già deceduto. L'uomo ha riportato ferite plurime d'arma da fuoco. Inoltre, il vetro anteriore destro della vettura del 50enne era praticamente in frantumi. Continua quindi la caccia ai killer. Nessuna pista esclusa al momento, spiegano gli investigatori, che comunque mantengono il massimo riservo sul caso. Si indaga anche negli ambiti che riguardano i precedenti della vittima, che, lo ricordiamo, era già nota alle forze dell'ordine.